Sono Andrea Ventura, fisico sperimentale del Dipartimento di Matematica e Fisica, intitolato al Matematico Leccese, Ennio De Giorgi. Come invito alla lettura io prendo spunto dall'anno 1984. Non mi sto riferendo al celeberrimo romanzo di George Orwell, scritto nel 1948, in cui immaginava 36 anni dopo scenari fantapolitici di un futuro lontano. Ma 1984 è l'anno di nascita dell'autrice del libro che vi propongo, Anna Fry, Hello World, esseri umani nell'era delle macchine, che potrete trovare edito da Bollati Boringhieri non solo in libreria, ma anche edito online, così non avrete bisogno di spostarvi da casa. Dunque, Anna Fry, FRY, un cognome molto breve, Anna, nome palindromo, anche includendo l'H iniziale e finale. Anna Fry è una divulgatrice irlandese di origine, matematica di formazione, molto famosa con i suoi programmi radiofonici e televisivi, soprattutto sulla BBC. Ebbene, il libro quindi si chiama Hello World, Buongiorno Mondo. Che significa Buongiorno Mondo? Beh, è un'espressione abbastanza semplice, sciocca, ma in realtà è il fondamento, se vogliamo, per tutti coloro i quali si occupano di programmazione al computer. Io stesso, quando Anna Fry probabilmente non andava neanche all'asilo, ricevetti il mio primo computer, un Commodore, e fu per me una grande soddisfazione riuscire a scrivere il primo programma e poi via via più complessi, per riuscire a interloquire con il computer e fargli fare qualcosa di semplice. A quel punto già mi sembrava meno stupido, ma soltanto perché faceva le cose che a me piaceva che facesse. Vabbè, quindi Anna Fry con questo Hello World vuole introdurre con un linguaggio non troppo tecnico, ma adeguato per tutti i lettori, con uno stile molto appassionante, attraverso sette capitoli, uno più vincente dell'altro, devo dire, nel mondo degli algoritmi, dei computer. Non ci dà soltanto le sue opinioni, perché noi ci facciamo l'idea che dice Anna, ma ci propone vantaggi e svantaggi. Il potere delle macchine messo direttamente a confronto con i limiti delle macchine stesse. Quindi quali sono le promesse che queste macchine negli anni ci hanno dato e in futuro potranno darci, ma quali limitazioni invece sembrano al momento almeno insonnontabili. Quindi grandi successi, sono descritti grandi successi, come ad esempio quando la macchina della IBM Deep Blue sfidò Kasparov, campione mondiale di scacchi. Il primo match nel 1996 fu vinto dall'uomo, ma l'anno dopo, nel 97, il match invece vide la vittoria di Deep Blue. Però Anna Fry ci racconta anche dei grandi fallimenti delle macchine. Molti di voi ricorderanno nel settembre del 1983 quando in un centro sovietico di sicurezza partì per errore una allerta nucleare, sembrava che gli Stati Uniti stessero attaccando, si era ormai sull'orlo dell'apocalisse di una terza guerra mondiale, ma questa allerta nucleare era falsa, era dovuta a un errore e soltanto l'intervento umano scongiurò questa sciagurata circostanza. E quindi Anna Fry ci fa capire in sostanza come solo il buonsenso possa permetterci di trovare quel compromesso, quella via di mezzo tra l'uomo e gli algoritmi. In tutta una serie di circostanze che riguardano la nostra vita, per esempio in caso di malattia, cos'è meglio? Ricevere la diagnosi da un medico con le sue limitate e particolari esperienze, ma comunque un medico che può entrare in un rapporto empatico con il paziente, o è meglio fidarsi di una macchina, di un medico virtuale che ha immagazzinato miliardi di informazioni provenienti da tanti altri casi clinici, che però non riesce a entrare in contatto, non può veramente mettersi a tu per tu con il paziente, come farebbe un medico umano. Oppure, nel capitolo dedicato alla giustizia, cos'è meglio? Che il verdetto venga espresso da un giudice che quando guarda in faccia l'imputato può capire qualcosa che solo tra uomini può essere compreso, o è meglio la macchina che conosce tutta la legislazione, tutti i casi di giurisprudenza di tutto il mondo e li applica in un istante e ci restituisce il verdetto, senza però conoscere realmente poi il caso particolare. Beh, la risposta in realtà non è così semplice e Anna Fry vuole farci riflettere, non ci vuole dare una ricetta preconfezionata. E poi le macchine sono dappertutto, sono nei trasporti, pensate alle automobili che si guidano da sole. Voi vi mettereste a bordo di un'auto che si guida da sola? Beh, forse lo fareste, un po' per curiosità, un po' perché ne avreste bisogno e vorreste fare altre cose nel frattempo, però sicuramente lo vorreste fare dopo aver verificato tutta una serie di condizioni. e quindi la sicurezza, ma come non pensare anche all'ambito della finanza, in cui già ampiamente gli algoritmi stanno prendendo il largo, con l'idea di massimizzare i profitti o anche intervenire nelle capacità decisionali delle persone. Insomma, il potere delle macchine sicuramente sta avanzando. Anna Fry ce lo descrive, lo fa in una maniera superba e mi ricorda che, insomma, leggere, sì, può essere un passatempo, ma secondo me è cibo per la mente. È qualcosa che ci permette di entrare meglio nella realtà che stiamo vivendo, senza nulla togliere chiaramente ai grandi classici di ogni genere letterario. Io ho scelto di parlarvi di Hello World, Anna Fry perché sicuramente meglio si inquadra nelle mie competenze, diciamo, tecnico-scientifiche, ma anche perché è un capolavoro, a mio avviso, di divulgazione scientifica. Non a caso è arrivato fino in fondo nella quinta edizione del premio Asimov, un premio promosso dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'INFN, che si basa su una platea di giudici che sono oltre 4.000 studenti delle scuole superiori di tutta Italia. Questa iniziativa ho il piacere di coordinarla per la Regione Puglia grazie all'Università del Salento. Quindi, sul futuro delle macchine, Anna Fry ci lascia nel dubbio, però io sono ottimista. Secondo me gli algoritmi non avranno mai il sopravvento sugli esseri umani e semmai lo faranno noi umani avremo sempre quel pizzico di fantasia, di senso di superiorità e forse anche indolenza perché poi alla fine ci convinciamo del contrario. Ma sarà veramente così? Boh, buona lettura.